William Shakespeare diceva Mi sento sempre felice e sai perché? Perché non aspetto niente da nessuno, aspettare sempre fa male, i problemi non sono eterni, hanno sempre una soluzione, unica cosa che non ha rimedio è la morte. Non permettere a nessuno di insultarti, di umiliarti o abbassare la tua autostima. Le urla sono lo strumento dei codardi di chi non ragiona. Incontreremo sempre persone che ci considereranno colpevoli dei loro guai e ognuno riceve ciò che merita. Bisogna essere forti e sollevarsi dalle cadute che ci pone la vita e ricordarci che dopo il tunnel oscuro e pieno di solitudine arrivano cose molto buone. Non esiste male che non possa al bene. Per questo godi la vita che è molto corta, per questo amala. Sii felice e sempre sorridi. Vivi sempre intensamente per te stesso e attraverso te stesso, ricorda. Prima di discutere, respira. Prima di parlare, ascolta. Prima di criticare, esaminati. Prima di scrivere, pensa. Prima di ferire, senti. Prima di arrenderti, tenta. Prima di morire, vivi. La relazione migliore non è quella con una persona perfetta, ma quella nella quale ciascuno individuo impara a vivere con i difetti dell'altro, ammirando le sue qualità. Chi non è contento di ciò che ha, un giorno si lamenterà di averlo perso. Se vuoi essere felice, rendi felice qualcuno. Se vuoi ricevere, dona un po' di te stesso. Circondati di brave persone e sii una di queste. Ricorda, a volte, quando o meno te l'aspetti, ci sarà chi ti farà vivere delle esperienze. Non rovinare mai il tuo presente per un passato che non ha futuro. Una persona forte sa come mantenere in ordine la sua vita. Anche con le lacrime negli occhi, sia giusto per dire con un sorriso sto bene.